Innovare, rinnovare e attivare le energie migliori per un'impresa più sostenibile. Sono queste le caratteristiche delle 260 aziende ammesse alla fase finale del Sustainability Award, il premio nazionale istituito da Con Group ed Elite, giunto quest'anno alla sua quarta edizione. Tra le 75 imprese che grazie alle loro innovazioni sono state ritenute più incisive sulla sostenibilità dello sviluppo economico e sociale, c'è anche la Via Regina iCare. I temi della sostenibilità per noi, i criteri LG sono fondamentali. Per una società pubblica essere qui è già un grandissimo risultato e per l'amministrazione comunale è un grandissimo risultato.